Ma che fa? Lo dico? Ma che fa? Lo dico che questa sera siamo già in diretta per i nostri sposi Occhio ai bastoni che mi guarda Ma quando siamo in diretta le macchine abbiamo tutti su e a tempo Felice lo squadro Felice lo squadro E se con tu rato 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 che felice lo scuoco Uomini o donne, chi saranno i più bravi? Io inizierei con le donne che al mio previ fanno sentire l'urgo, quello forte per i nostri sposi ma soprattutto la sposa Uno, due e tre Uomini o donne, chi saranno i più bravi? 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.